E dopo questa grandissima zuppa di latte abbiamo vinto la scommessa un saluto generale a todo lo staff di AMV Paradise abbiamo mangiato una grandissima zuppa di latte grandissimo, ricordiamo sempre sono fatte le 3 e 10 signori ok, il barattolo di Nutella a vuoto così come il latte ciao ragazzi